Primo giorno e quarto giorno. Si parla ovviamente di sistemi di illuminazione diversi. Nel primo giorno si parla chiaramente di sistemi di illuminazione artificiale. Per distinguere, siccome lì hanno impiantato un laboratorio sperimentale nel quale coltivavano in modo sperimentale e lì hanno messo gli Adam, non l'Homo sapiens, gli Adamiti, che come spiego nelle conferenze si chiamavano Adam Afar, che viene tradotto fece l'Adam con la polvere della terra. No, nella Bibbia non c'è scritto fece l'Adam con la polvere, fece l'Adam Afar, cioè ha fatto l'Adam terra e l'ha messo lì a lavorare. E non è interpretazione, non c'è con, non c'è e se non c'è non bisogna inserirlo. Quella è una definizione. Quindi lì dentro c'era un sistema di illuminazione artificiale.